Vi presento chi ha suonato per voi questa sera L'organetto diatonico, Raffaele De Luca Piccione Chitarra e voce, Roberto Rescigno Il maestro degli strumenti antichi, voce, castagnette, potimutri, cappallac Sebastiano Roscigno Maestro, come senti io, tu da tu, tu da tu, tu da che hai parlato negli amici Il nostro amico, il titolare, il titolare mi sembra proprio L'arraditto, un must No, un must La, come dice, Tax Machine Colui che ha creato questo gruppo E che fa delle ricerche E che sta su questa, sta sulle tavole da più di trent'anni Il nostro amico Luigi Blaso Il t'amore, grazie Il t'amore Volevamo salutarvi con Cicerenella Va bene Volevamo salutarvi con Cicerenella Volevamo salutarvi con Cicerenella Volevamo salutarvi con Cicere ingresa Volevamo salutarvi con Cicerenella Come dice, voi vi Volevamo salutarvi con Cicereme Volevamo salutarvi con Ciceremanimi E' un'altra cosa facendo. 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 Un'altra...